Ciao a tutti, sono Francesco Borgonombo, questo è Orso Bruno, come tutti i giorni, la nostra striscia per commentare l'attualità, bentornati, prima di iniziare a parlare del tema di oggi, che è uno dei temi di grande attualità, occupa in questo caso non le prime pagine, però va a insistere su una questione che da fin troppo tempo occupa le prime pagine, cioè la guerra in Ucraina, prima però voglio ricordarvi che questa sera, a partire dalle 21 c'è 1984, abbiamo una puntata secondo me molto interessante, abbiamo fatto tutto il possibile per affrontare alcuni temi molto delicati con grandi ospiti, con il massimo dell'approfondimento e dell'apertura mentale possibile, anche temi estremamente delicati, parleremo sul finale di diritti transgender, della disputa sul corpo dei minorenni e sugli ormoni che bloccano la povertà, parleremo di transumanesimo in maniera lontana dagli stereotipi, dalle riflessioni così un tanto al chilo, cercheremo di capire che cosa rappresenti davvero e quali siano le prospettive future per la cultura occidentale, c'è in gioco appunto il corpo, la sua modificazione e la capacità dell'uomo di crearsi da sole, questo è un tema estremamente interessante che riguarda il futuro di tutti noi e poi ovviamente parleremo della questione ucraina e partiremo dall'apparizione, dalla manifestazione di Zelensky e Sanremo, nel senso che lui si manifesterà tramite un video messaggio, quello che la RAI ha chiesto in maniera un po' così burlesca di vedere prima di che l'ha messa in onda, sai che c'è una volta che prima lo inviti, poi chiedi di vedere il messaggio, quello di un capo di stato straniero, poi se non ti piace il messaggio che fai, glielo rimandi dietro e dici no grazie guardi devi tagliare, è una faccenda veramente ridicola, è tutto grottesco, partita come una cosa grottesca sta diventando più grottesca e quindi daremo conto dell'opposizione crescente alla presenza di Zelensky a Sanremo, avremo con noi due ospiti che sono stati tra i capofila di questa protesta, c'è Carlo Freccero che ci ha concesso un bel po' del suo tempo, Moni Ovadia che poi nei prossimi giorni sarà a teatro a Milano e da prospettive diverse con punti di vista diversi abbiamo cercato di affrontare questo tema, quindi vi invito a seguire la puntata stasera, se volete, ci fa molto piacere, se volete commentare in diretta, far girare un po' di opinioni su Twitter o scriverci poi quello che pensate, dopo aver visto la puntata ovviamente ne siamo molto felici e per restare sul tema ucraino veniamo alla questione centrale di oggi e prima di arrivare a quella odierna, partiamo da un titolo che è data settembre 2022, per la precisione 12 settembre 2022, viene pubblicato su un quotidiano piuttosto noto Repubblica, questo articolo di Alessandro De Nicola intitolato perché le sanzioni alla Russia sono efficaci, catenaccio cioè sottotitolo, l'economia russa in sofferenza e questo non è l'unico effetto delle sanzioni occidentali, l'articolo inizia con un riferimento a un motivetto fascista contro le sanzioni, quelle imposte a suo tempo dalla società delle nazioni contro l'Italia e inizia in maniera ovviamente irridente nei confronti di chi in quel momento, ricordo siamo alla fine di settembre, metà fine settembre 2022 e chi in quel momento dice state attenti perché le sanzioni non è che vadano granché bene, continuiamo a danneggiarci da soli, ci facciamo del male, non stiamo distruggendo la Russia, stiamo facendo male a noi stessi e quindi in quel momento escono, questo ho citato un titolo di Repubblica, diciamo avrei potuto sceglierne anche altri perché in quel momento su tanti giornali qualcuno era un pochino più titubante, però più o meno la linea era quella, vedo l'inchiesta ancora di recente, l'inchiesta ha molto spinto il 13 gennaio perché le sanzioni alla Russia funzionano, un altro titolo, ne cito vari a caso, for me che le sanzioni sul petrolio russo funzionano, ecco perché, vari altri articoli, You News, ecco perché funzionano le sanzioni alla Russia, vari articoli anche qui su Internazionale e così così, le sanzioni alla Russia e l'Espresso, questo è l'Espresso 10 ottobre 2022, le sanzioni alla Russia funzionano, per questo l'Italia e l'Occidente devono portarli avanti, questa è un'opinione di Guntram Wolf, pubblicata dall'Espresso, il messaggero.it 23 ottobre 2022, Putin, le sanzioni funzionano, la mia finanza.it, il post qui e là, sono più o meno gli stessi titoli quasi dappertutto, c'è chi è più interrogativo, chi è più determinato, però più o meno l'onda del pensiero prevalente è quella, cioè bisogna continuare a fare le sanzioni perché affonderemo la Russia e la Russia in qualche maniera crollerà e contemporaneamente questa storia delle sanzioni c'era anche la storia dell'esercito, di imbecilli, distrutto. Ora, lo ripeto per essere chiaro, io non voglio fare il tifo per nessuno, non dico le cose per gioire, per ridere, non è una cosa che, non so, quello che vede la sua squadra che vince dopo mesi di umiliazioni, va al bar e prende in giro gli amici e i conoscenti, io queste logiche vorrei eliminarle dal dibattito. A me non interessa fare il tifo per una squadra, non mi interessa dimostrare di aver ragione, anche perché io non è che elaboro delle strategie, semplicemente mi limito a leggere quello che viene scritto in Italia e magari anche fuori dall'Italia, cercare di avere una visione più ampia possibile e cerco di ragionare su quello che leggo, quindi ripeto, non è per me una questione di tifo, vedete ho ragione, ve l'avevo detto che non sono un profeta, non sono un predicatore, non sono uno con la palla di cristallo, leggo e cerco di mettere insieme le due informazioni che ricevo e se continuo a leggere da una parte o dall'altra indicazioni un po' differenti rispetto a quelle che trovo sulla gran parte dei giornali italiani, mi faccio delle domande. Infatti, ricito, 12 settembre 2022, Repubblica, perché le sanzioni funzionano? Oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, titolo di Repubblica, pagina 14, Paolo Mastrolilli l'autore, quindi non in passante. C per i cambi, a Mosca arriva di tutto, con il flop delle sanzioni il PIL ora cresce, attenzione, Fondo Monetario Internazionale rivede le stime e certifica, pensa un po', la graduale ripresa dell'economia russa, ovviamente qui bisogna giustificare in qualche modo, grazie ai complici Cina, India, Turchia ed ex repubbliche sovietiche, ecco i paesi che aiutano ad aggerare il blocco occidentale delle merci, i complici sono questi, sono quelli che fanno affari con la Russia, che non hanno messo le sanzioni, compreso un paese della Nato, cioè la Turchia, che sta serenamente della Nato, però continua a gestire il proprio rapporto con la Russia, forse magari può avere la speranza, differenza nostra, di costruire un canale diplomatico per far finire la guerra e fare sì che smetta di morire un po' di gente, cosa che sembra che la maggioranza dei nostri politici non interessi, ma Strolilli esordisce dicendo l'economia russa zoppica ma non cade, perché Mosca ha trovato diversi paesi complici che l'aiutano ad aggirare le sanzioni, in realtà fa più 0,3% l'economia russa, quindi non c'è stato il crollo, poi sì, ci saranno i complici, ci saranno gli aiuti oscuri, le violazioni, ma non è che ci sono i cattivi che violano le regole, ci sono delle regole che ha stabilito l'Occidente e ci sono una parte di nazioni nel mondo che quelle regole non intendono sottomettersi, perché hanno una visione della storia diversa, hanno delle priorità differenti e hanno degli interessi divergenti dai nostri, anzi in realtà alcuni dei loro interessi sulla pace in Ucraina coincidono con i nostri, siamo noi che danneggiamo il nostro interesse in nome degli interessi degli Stati Uniti o di qualcun altro che pensa di poter distruggere una potenza atomica come la Russia senza andare incontro a delle conseguenze potenzialmente terrificanti e oggi dopo mesi di ripetizione degli stessi slogan, la Russia è destinata a morire, a crollare, a distruggersi, a fare tutto, cosa abbiamo? Mercoledì 1 febbraio 2023 con il flop delle sanzioni il PIL ora cresce, il PIL della Russia, quella che doveva crollare, l'esercito che si doveva sciogliere al sole, quella che bisognava sconfiggere il più rapidamente possibile mandando le armi, così la guerra finiva prima, ecco questo è il risultato, continuiamo fra poco. Eccoci, abbiamo fatto una piccola pausa e così caldiamo anche un po' gli animi e elaboriamo il concetto che ho cercato di esprimere prima, a costo di essere ripetitivo qualcuno a volte mi dice che sono ridondante in queste cose, però lo voglio ripetere, per me non è una questione di partigianeria politica, a me non interessa sinceramente, a me interessa il benessere nazionale, ho a cuore l'interesse nazionale, perché penso che il compito dei politici italiani e il compito dei giornalisti che devono vigilare anche sul loro operato sia quello di fare il massimo possibile per i cittadini della loro nazione, visto che poi su altre cose, su altri argomenti non è che abbiano tutta questa capacità di manovra, diciamo così, quindi meglio che si concentrino su quello che sono deputati a fare, sono lì apposta per fare l'interesse della nazione e io credo che in questo momento non lo stiano facendo, non lo stanno facendo perché stanno seguendo, anche perché in parte sono obbligati, ci sono dei motivi storici per questo, la storia delle volte semplicemente è indiscutibile, si fa così perché ci sono delle ragioni storiche, io posso anche capire queste ragioni storiche, però almeno dobbiamo essere informati sulla realtà dei fatti, siamo un paese che è vassallo e quindi è destinato al vassallaggio perché ha perso la guerra, perché ci sono determinate dinamiche di potere, non ci sono da oggi, ci sono da decenni, quindi inutile pensare che ci si possa così ritagliare chissà quale enorme sovranità, però forse un pochino più di autonomia decisionale si potrebbe avere, perché? Perché altri ce l'hanno, certo la Turchia non è l'Italia, in Turchia c'è un uomo forte al comando che non si fa molti problemi con l'opposizione e quant'altro, qui le dinamiche sono ovviamente molto diverse, il governo di centro-destra deve rassicurare tutti, deve dimostrare di essere bravo, ci sono una serie di tensioni e di richieste che si fondono assieme, non è una giustificazione della mia, anzi io sono un critico, però capisco quali siano le ragioni di certe scelte, le posso capire, sì la sudditanza, sì l'ideologia delle volte, ma anche in parte la necessità, la politica e l'arte di fare quello che si può in un determinato momento e la condizione nostra è questa, c'è un governo di centro-destra che deve dimostrare a tutti di non essere satana in persona e quindi deve fare una serie di scelte per non essere attaccato come accaduto ad altri governi del passato, penso quello Lega 5 Stelle che voleva sovvertire il mondo ed è stato sovvertito, detto questo il nostro compito e anche il mio è quello di dire le cose che non ci piacciono, che non ci convincono, che secondo me danneggiano la nostra nazione e una delle cose che stanno danneggiando la nostra nazione è la gestione della questione energetica, ovviamente noi spendiamo un sacco di soldi, il governo ha speso un sacco di soldi per tentare di calmierare le bollette, sapete che ha dovuto rinunciare tra le varie cose, ha scelto di rinunciare a coprire l'aumento delle accise, la situazione in cui ci troviamo è evidente a tutti, la rottura del rapporto con la Russia oltre a provocare ancora una guerra che non ne si è fermata, ma che dura ancora lungo, ha prodotto una serie di danni economici notevoli non soltanto a noi, a tutta l'Europa, ha spezzato un legame antico o comunque ha messo a dura prova un legame antico, perché se mai si ritornerà a parlare con i russi ci porrà un sacco di tempo, i russi sono stati spinti verso l'Asia invece di incentivare la tensione europea in questo quadro eurasiatico, è stata data una spinta verso l'altro fronte, quindi i danni sono clamorosi, sono forse epocali e sono senz'altro un obiettivo che gli Stati Uniti avevano, un obiettivo anche molto spregiudicato dell'amministrazione Biden, feroce, poi Biden sappiamo che con l'Ucraina qualche faruccio personale, interesse personale e fissazione personale ce l'ha, per cui noi ci siamo imbarcati in questa impresa, anche in maniera abbastanza convinta, prima con Draghi, poi con questo governo, con ripetute dichiarazioni e però la realtà è che a oggi, 1 febbraio 2023, la guerra non è finita, fra meno di un mese si celebra l'anniversario dell'ingresso delle truppe russe in Ucraina, si diceva che l'esercito russo era un esercito di incompetenti, vecchio, senza armi, non motivato, coi mercenari, che sarebbe crollato, che i servisti scappavano, che la gente non voleva ruolarsi, che sarebbe imploso in pochissimo tempo, sono ancora qui che combattono, in Donbass sono avanzati, si teme da parte Ucraina un'offensiva di primavera potente e quindi no, l'esercito non è crollato, si diceva che Putin sarebbe stato addirittura sovvertito dall'interno, che ci sarebbero stati dei colpi di Stato, delle rivoluzioni, l'opposizione in piazza tutti i giorni, ok, però quanto pare la gran parte dei russi è favorevole per il proseguimento di questa campagna militare, si è detto poi infine che l'economia sarebbe deflagrata, che le sanzioni avrebbero avuto un impatto devastante, che si sarebbe sgretolata l'economia russa e oggi tocca ammettere che non è andata così e non lo dico io, non lo dice nemmeno Repubblica in realtà, che però lo certifica in un titolo così come gli altri, lo dice il Fondo Monetario Internazionale che ora stima una crescita dell'economia russa dello 0,3% nel corso dell'anno, in realtà in precedenza avevano previsto una contrazione del 2,3%, cioè meno 2,3%, in realtà crescerà e crescerà dello 0,3%, che non è tantissimo, ma cresce invece di diminuire, curioso, una nazione in guerra da un anno, è vero, dice Repubblica che il Fondo Monetario ha rivisto e rialzo tutte le proprie valutazioni e perché l'economia mondiale ha retto meglio di quanto ci si aspettava e forse anche questo è un dato interessante, forse per qualcuno la guerra è anche un affare, nel caso di Mosca però uno si sarebbe aspettato che le sanzioni occidentali avrebbero comunque compromesso la crescita ben oltre quanto avveniva negli altri paesi, rileggo attenzione, nel caso di Mosca uno si sarebbe aspettato che le sanzioni occidentali avrebbero comunque compromesso la crescita ben oltre quanto avveniva negli altri paesi e no, non è che uno si sarebbe aspettato, tutti scrivevano che sarebbe successo così, tutti ripetevano che sarebbe successo così, tutti sostenevano questa cosa per dire guardate la vittoria è imminente, bisogna continuare a mandare le armi perché così la guerra si velocizza e la caduta di Mosca si distrugge e se noi stiamo nei guai con l'energia, pacchiamo di più, stiamo al freddo e perché così possiamo affamare la bestia e distruggere Mosca facendone crollare l'economia, ecco il risultato, quindi non è che uno si aspettava, forse voi vi aspettavate, secondo me non ve lo aspettavate ma avete detto le cose che bisognava dire in quel momento, che bisognava ripetere e la realtà qual è? La realtà non è che adesso è viva, festeggiamo perché Mosca sta in piedi, la realtà è che non festeggiamo proprio niente perché noi italiani siamo stati danneggiati e continuiamo a esserlo, non ci sono spiragli nel breve periodo per ricostruire un rapporto che per noi era importante, anche a livello culturale, di civiltà proprio, la guerra continua e non accenna a finire, anzi può peggiorare perché nessuno sembra intenzionato a trattare, ci facciamo pigliare a pesce in faccia da una parte che fa persino la propaganda all'interno del Festival di Sanremo, non mi sembra che il quadro sia entusiasmante, quindi non c'è nulla da festeggiare, non festeggiamo proprio niente, mi limito io personalmente a far notare che dopo un po' di tempo, dopo un anno per la precisione, la realtà comincia a venire a galla, non è che io sia contento per una cosa o per l'altra, avrei preferito che si tenesse, fosse tenuto in considerazione chi un anno fa, mesi fa diceva guardate che le sanzioni non funzioneranno, danneggeranno la nostra economia e non quella russa, guardate che non sarà facile come credete, c'era gente che lo diceva un anno fa, quando tutto doveva ancora iniziare, non è stata ascoltata e adesso i risultati li abbiamo sotto gli occhi, sappiamo chi ringraziare e sappiamo a chi crede, a quali profeti dobbiamo votarci per avere lumi sul futuro, ma pensate, uno si sarebbe aspettato che le sanzioni funzionassero, no non c'era proprio da aspettarsi che le sanzioni funzionassero, l'avevano detto in tutti i modi, avete voluto andare avanti per questa strada e alla fine purtroppo a pagare sono sempre i soliti, cioè tutti noi.